Un autentico terremoto elettorale a cinque giorni dal voto ha investito il candidato sindaco Massimiliano Grasso e la coalizione che lo sostiene. Nel tardo pomeriggio di ieri è arrivata la clamorosa notizia che non ha riscontri nella storia elettorale cittadina dell'abbandono di due candidati al Consiglio Comunale della lista civica per Grasso Sindaco Civitavecchia 2030. Marinella Scacce e Daniele Lisi, popolare ex campione di pallannuoto e attuale allenatore della formazione femminile della Nautilus, hanno infatti deciso di cessare ogni tipo di partecipazione elettorale con la lista. All'oggetto della decisione il provvedimento assunto a pochi giorni dalla fine del mandato dell'attuale giunta di prorogare di ulteriori quattro anni alla NC la gestione del Palagalli. Ci scusiamo con i cittadini, scrivono Scaccia e Lisi, ma poiché questo episodio, secondo noi molto grave, non è stato debitamente trattato dalla coalizione alla quale avevamo deciso di aderire, annunciamo la nostra pur sorferta decisione di uscire definitivamente dalla lista Civitavecchia 2030 e di non prendere più parte alla chermessa elettorale. E a poche ore di distanza è arrivato un altro scossone sempre per il candidato sindaco Grasso e la coalizione che lo sostiene. Analoga decisione di abbandonare e di impegnarsi invece per sostenere il candidato a sindaco Paolo Poletti è arrivata infatti da parte dei candidati dello schieramento riferibili al simbolo della democrazia cristiana. In un comunicato a firma del commissario regionale del partito, Sergio Marini, si legge che in riferimento all'iniziale indicazione di sostenere Grasso, confermata alla conferenza stampa di ufficializzazione della candidatura a sindaco, il partito ha ritenuto di ritirare il suo sostegno elettorale impegnandosi invece a sostenere espressamente il candidato Paolo Poletti. L'ADC motiva la sua decisione parlando di atteggiamento non collaborativo di Grasso e del mancato consolidamento degli accordi presi relativi sia alla lista che al simbolo della democrazia cristiana.